La storia di Lucio Tesoniero, ragazzo di Cicerale di 40 anni, cieco dalla nascita, che purtroppo ha avuto tolti quei pochi diritti che ha. Ne abbiamo lungamente discorso con il papà e con la mamma, ma anche con lo zio, i quali chiedono giustizia, una giustizia che per Lucio è venuta purtroppo a mancare. Ci troviamo qui a Cicerale, Cilento, in un angolo del nostro Cilento dove Lucio vive con i genitori, con la famiglia, con gli zii, ma che vorrebbe ritornare nella Lega del Filodoro. La vicenda ce la spiegheranno sia il papà che la mamma che lo zio in un intervento televisivo che dovrà arrivare fino alle istituzioni. A De Luca, presidente della regione, a Franco Alfieri, ma anche ai sindaci del comprensorio, agli assistenti sociali tutti. Non si può abbandonare un ragazzo di 40 anni che già è stato molto sfortunato nella vita. Eccolo qui, Lucio Tesoniero, siamo qui a Cicerale, a casa sua. Lucio non sorride più, non socializza e è nervoso perché vuole ritornare alla Lega del Filodoro. Ma i motivi ce li racconteranno il papà, la mamma, lo zio in un accorato appello che vedrete sul mio canale YouTube, su Sette TV e in altri emittenti televisivi. Eccolo qui, Lucio, la storia di Lucio, una storia commovente.